Un uomo buono, un pezzo di pane, un uomo umile, così veniva definito Francesco De Florio De Grandis. Per tutti Cicillo, il pittore della notte, amava dipingere soprattutto di notte. I suoi quadri sono nelle case di molti lancianesi. 72 anni, questa mattina intorno alle 8, lui è sceso qui per farsi la consueta passeggiata domenicale, ma improvvisamente ed inspiegabilmente è stato freddato da colpi di pistola. Chi ha sentito ha sentito più di 10 colpi. Sì, sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Lanciano. Tanto dolore in tutto il quartiere, in chi lo conosceva di persona ma anche di vista, perché, ripeto, lo conoscevano come una persona buona. Tanto dolore per i tre figli, Franco, Roberto, Carmine, per la moglie, Licia. Un gesto che non si riesce a spiegare, un quartiere la cui tranquillità di domenica mattina è stata turbata da questa tragedia. Voi abitate proprio qui vicino dove è avvenuta la tragedia, vi siete svegliati con questi colpi? Sì, con i colpi, sì. Abbiamo sentito un po' di colpi all'inizio, 4-5. Dopo c'è stata una pausa e subito dopo altri due o tre colpi, due colpi. Ci siamo svegliati con questa paura. E' stato intanto effettuato un fermo da parte dei carabinieri di Lanciano che stanno effettuando le indagini diretti dal tenente colonnello Vincenzo Orlando.